La ministra dell'interno ha riferito in aula dopo gli scontri tra studenti e polizia del 28 gennaio, le manifestazioni sono un segno di vitalità della nostra democrazia che ci fa bene sperare nel futuro, ma ci sono delle regole. La ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, ha letto una lunga informativa al Senato con replica anche alla Camera sugli scontri tra agenti di polizia e studenti a Torino. Desidero rinnovare da parte del governo e mi ha il cordoglio alla famiglia per la morte di Lorenzo Parelli ha cominciato la ministra che con impegno e la freschezza dei suoi 18 anni testimoniava la determinazione del nostro paese a rialzarsi dalla crisi devastante indotta dalla pandemia. Poi ha spiegato, sono i giovani ad aver risentito di più di restrizioni, disuguaglianze, marginalità e occasioni mancate, che sono alla base di un malessere profondo e non sempre compreso. Più voci autorevoli si sono soffermate sulla profondità di questa crisi dovuta anche al mancato ascolto da parte degli adulti, in un quadro di angoscia esistenziale che ha cambiato i nostri comportamenti creando distanze umane sconosciute e incidendo profondamente nella nostra società. Per questo motivo la morte inaccettabile di un giovane, in un momento che doveva essere di massima sicurezza, ha generato manifestazioni di solidarietà e proteste da parte dei suoi coetanei. Ma è innegabile che ognuno di noi abbia provato sentimenti di incredulità e sgomento così com'è indubitabile che queste proteste giovanili rappresentino la voglia di partecipazione di un mondo che durante la pandemia ha sofferto in particolar modo l'isolamento. È comunque un segno di vitalità della nostra democrazia che ci fa bene sperare nel futuro. Ma attenzione, d'altro canto la democrazia ha le sue regole, dalle quali non si può prescindere mai, soprattutto se poste a presidio del cruciale bilanciamento dei valori costituzionali quali il diritto di manifestare liberamente e la tutela della salute pubblica. Grazie a tutti!